Ben ritrovati, prima di tutto faccio un grosso in bocca al lupo a Paolo Morganti che ieri è diventato ufficialmente il nuovo direttore generale del Catanzaro e ha ricoperto più in carica la Juve credo per 4 anni, è stato anche il Football Department Organization Manager della Juventus un professionista molto serio che la Juve aveva preso dal Novara però diciamo che complessivamente abbiamo ben compreso come soprattutto in questa finestra la Juve stia cambiando decisamente pelle perché al di là dell'investitura che c'era stata nei mesi scorsi di John Elka nei confronti di Cristiano Giuntoli, ufficiale da settimane che è arrivato Giuseppe Pompiglio che è braccio destro di Cristiano Giuntoli, i due hanno lavorato assieme prima al Carpi e poi al Napoli e in arrivo Stefano Stefanelli che si sta liberando in queste ore dal Pisa e lui diventerà una sorta di braccio sinistro di Cristiano Giuntoli, ci sarà un nuovo capo scout, insomma più figure riconducibili a Giuntoli per fare in modo che la squadra, il suo team e l'impronta sia molto chiara quindi un grosso in bocca al lupo a Paolo Morganti per questa nuova avventura professionale ma intanto ormai siamo entrati nell'ordine di idee che qualche offerta per Mattia Sassule arriverà vi confermo che nei giorni scorsi c'è stato un nuovo contatto con l'entourage dell'esterno offensivo argentino e sostanzialmente è tutto pronto affinché arrivino le prime proposte in molti hanno parlato di Bayer Leverkusen, di un'offerta ufficiale da 20 milioni io devo dire che ad oggi non mi risulta che il Bayer Leverkusen abbia formulato offerte ufficiali apprezza il calciatore, evidentemente Shabbiononso che è di bocca buona e che è un pecrico poi votato alla tecnica e quant'altro avrà avuto modo di osservare sicuramente anche l'evoluzione di Mattias nell'anno di Frosinone però offerte ufficiali non ne sono arrivate da chi potrebbero arrivare? c'è chi sostiene che al momento sia il West Ham il club più sul pezzo il club che starebbe dialogando con gli agenti di Sule per iniziare a formulare una prima offerta io vi ribadisco che vale quanto stiamo dicendo ormai da mesi il prezzo fissato dalla Juventus per Sule è tra i 35 e 40 milioni poi a livello di negoziazione se hai bisogno poi di reinvestire immediatamente parte del ricavato non sto a dire che sicuramente la Juventus sotto quella cifra non scenderà ma la base è quella quindi quando si parla di 20 milioni si parla di un'offerta che non devi neanche metterti lì ad esaminarla come dicevo nei giorni scorsi a mo' di battuta io per 20 milioni do una gamba di Mattias qualcuno mi sta chiedendo ma non è che magari Tiago Motta può incidere, può decidere che alla fine resti perché ne aveva parlato anche bene proprio prima di Frosinone Bologna con un bello spiegone a livello tecnico-tattico non penso, non penso perché credo che Sule sia uno dei pochi calciatori della Juventus ad avere ampio mercato e che poi ti garantisca anche pura liquidità tra gli ammortamenti il beneficio che creerebbe a bilancio generando un'operazione positiva il fatto che abbia un ingaggio sostenibile altrove quindi lo piazzi facilmente oggi come oggi ragazzi al 15 di giugno mi sembra che sia molto ma molto più semplice che Sule parta anziché resti poi spero di essere smentito perché io lo sapete perfettamente sono un grandissimo fan di Mattias ma non faccio il tifo per le mie idee non faccio il tifo per i miei gusti cerco di fare informazioni prima verifico poi parlo e verificando poi parlando mi sembra che su Mattias la linea sia stata tracciata sull'orientamento poi però c'è da capire seriamente chi farà questa offerta se sarà il West Ham che è un club storicamente ostico per la Juventus ricordo come esattamente un anno fa c'era stata quella trattativa ve la ricorderete per Denis Zaccaria perché ve lo garantisco la Juve ha trattato per un paio di settimane serratamente ma giorno, 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 giorno ogni giorno un dialogo e che non portava a spostarsi tant'è che poi l'offerta del Monaco ha fatto stata del banco con mi dicono che si hanno giunto lì in primissima linea a questo punto si è spazientito e quindi ha deciso di dare priorità al club a Monegasco che offreva più soldi ed è riuscito anche poi a soddisfare le richieste del diretto interessato quindi se dovesse essere il West Ham sono curioso di vedere questo secondo round con Cristiano Giuntoli come andrebbe però non mollerebbe sicuramente ecco abbiamo pochi elementi a nostro favore per giudicare il modus operandi di Cristiano Giuntoli della Juve in sede di negoziazione perché abbiamo visto la cessione di Zaccaria la scorsa estate qualche mossa anche forte come mettere la porta Bonucci quant'altro poi nel mercato di gennaio ci sono le due operazioni ininfluenti Tiago Jalò l'abbiamo visto per qualche minuto all'ultimo atto stagionale Alcaraz abbiamo visto poco però sono le due operazioni molto laboriose effettuate Tiago Jalò per battere una concorrenza nutritissima capitana Tlatelico Madrid e Inter e poi c'era da portare in tono positivo l'indice di liquidità e quindi vendire a Nocchia e piazza quell'altro insomma sono state dinamiche molto complicate con cui lavorare per lo stesso Cristiano Giuntoli che ora ha una situazione differente ha potuto anche pianificare nel corso dei mesi vedi l'arrivo di Tiago Motta e vedi delle trattative di mercato che sono in procinto di essere chiuse però ecco per quanto riguarda le cessioni io ho la sensazione che giuntoli sia uno molto tosto lo avevamo non io perché ritenevo che per esempio i soldi presi per Luca Pellegrini fossero quasi in mano dal cielo però ne ha avute di critiche per esempio la cessione a 17 milioni di Rovella il presito bienale con obbligo di acquisto da parte da Lazio è sceso il mondo poi però magari uno guarda l'ultima stagione non so cosa accadrà la prossima e spero che Rovella possa rilanciarsi perché per me è un bel talento ma alla fine della fiera ti viene a dire ah sai che c'è che i 17 milioni di Rovella sommati a quanti 3, 4 e Pellegrini e Pellegrini poi però non è che complessivamente sia andata così male soprattutto vi ricordo una cosa che Pellegrini alla Juventus aveva un contratto da oltre 3 milioni netti a stagione ribadisco un contratto da oltre 3 milioni netti a stagione comunque andiamo avanti e niente e niente perché è importante evidentemente se arriveranno delle offerte per Sule e stanno per arrivare perché poi devi andare subito a sostituirlo io su Greenwood sto ancora un schiscio se per Douglas Lewis è un countdown per quanto riguarda il suo arrivo di Gregorio lo consideriamo già fatto sugli altri nomi sto molto schiscio A perché è giunto lì ve lo garantisco è un abile depistatore quindi può andare su uno ma anche realmente perché io ricordo quando Fabio Paratici e mi appostavo fuori da Palazzo Parigi a Milano incontrava nella stessa giornata 4-5 procuratori per 4-5 profili che giocavano lo stesso ruolo e quindi ci sta lavorare su più fronti e credo che sia corretto fare così anche per chiudere il miglior rapporto qualità-prezzo però al 15 di giugno insomma c'è anche l'interesse a far uscire diversi nomi magari per operare a fare spenti su altri profili quindi se su Di Gregorio e Douglas Luiz siamo speditissimi con uno fatto e l'altro quasi il resto il resto sì ok l'obiettivo primario resta Calafiori ma non è le condizioni di Bologna ecco ribadisco questo concetto se qualcuno se qualcuno si aspetta che la Juventus faccia rilanci folli arrivi a 40-50 milioni per Calafiori no a queste cifre Calafiori non arriva si va su altri profili perché è giusto rispettare il percorso di un ragazzo è giusto rispettare la forza societaria di una società che è tosta che è come il Bologna che giustamente vuole fare anche una bella Champions poi però la Juventus una lena al naso e Calafiori è un ottimo centrale ma il mondo è pieno di centrali probabilmente è unico per caratteristiche per come interpreta il calcio Tiago Motta e i risultati li abbiamo visti ma calma perché io leggo valutazioni di 50 milioni ecco il problema vero su Calafiori è che loro devono garantire più del 40% del ricavato al Basilea ma quello è un problema del Bologna non della Juve e se Calafiori oggi mette in cima in lista dei desideri personali la Juve e per il Bologna non so quanto diventi facile provare a tirare in ballo un effetto asta che potrebbe non trovare la sponda del calciatore però questo lo racconteremo nel corso delle prossime puntate è bello è bello vivere finalmente un mercato che ci dà aggiornamenti incontri notizie magari anche tracce sbagliate ma che fanno parte anche della normalità di un mercato che in Italia per noi è una religione parliamo di mercato quando non è niente tempo di farlo figuriamoci ora che invece stiamo costruendo la Juventus 2024 2025 e spero davvero che poi la stessa rosa venga plasmata in maniera consona alle caratteristiche dell'allenatore e io su questo non ho dubbi non so se i nomi che arriveranno poi faranno le fortune della Juve non so se Tiago Motta riporterà in alto questa gloriosissima società ma so che tutto ciò che verrà fatto seguirà una logica come è stato palisato proprio in queste primissime scelte in vista della nuova stagione se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like iscrivetevi al canale e attivate la campagna delle notifiche e attivate la campagna